il circolo sociale di sì andava in scena per scopi di beneficenza a un ballo in maschera o come lo chiamavano le signorine locali un ball parei tralascio di descrivere i noiosi e soffocanti dettagli di questa mascherata e conduco invece direttamente il lettore nella sala di lettura del club dove avvenne appunto un fatto che costituisce il tema di questo racconto era la mezzanotte cinque soggetti dall'aria intellettuale senza maschera e senza interesse per il ballo sedevano al grande tavolo di lettura e affondati barba e naso nei giornali leggevano pensavano e dormichiavano dal salone giungevano ora i suoni di una quadriglia intrecciata ora di una polca tramblante a fianco della porta pestando forte i piedi e facendo tintinnare le stoviglie correvano di continuo i camerieri altrove invece regnava un grande silenzio di qui mi pare che sia più comodo si udì all'improvviso una voce di basso che sembrava uscire da una gola strozzata e dai qui ragazzi la porta si aprì e nella sala di lettura entrò un uomo alto e tozzo con maschera, costume da cocchiere e penne di pavone lo seguivano due dame in maschera e un lacchè con un vassoio sul vassoio una bottiglia panciuta di liquore d'abbazia tre bottiglie di vino rosso e alcuni bicchieri da questa parte, qui staremo più freschi disse l'uomo appoggia il vassoio sul tavolo sedetevi, mademoiselle je vous prie à la Tremontaine e voi, signori, favorite uscire qui non ce n'è per voi l'uomo traballò e con una mano rovesciò alcune riviste dal tavolo sul divano appoggia qui e voi, signori lettori spostatevi non c'è posto qui per i giornali e la politica su, basta vi pregherai di fare un po' più silenziosamente disse uno degli intellettuali rivolto uno sguardo alla maschera attraverso gli occhiali questa è una sala di lettura non un buffet non è questo il luogo per bere perché non è posto? forse il tavolo è zoppo o il soffitto sta per cadere beh, che strano ma non è il caso di chiacchierare posate i giornali un po' avete letto e ve lo farete bastare e poi siete fin troppo intelligenti vi ravinerete gli occhi e io non voglio il lacchè posò il vassoio sul tavolo e con il tovagliolo sul gomito si misa in piedi di fianco alla porta le dame si dedicarono prontamente al vino rosso e com'è che esistono persone per le quali i giornali sono meglio di queste bevande presi a dire la maschera con le penne di pavone versandosi il liquore secondo me se devo giudicare dal punto di vista di come io capisco loro amano i giornali solo perché non hanno niente da bere eccoci come dico ah, ah, leggono beh, e che cosa c'è scritto lì? signore con gli occhiali di che cosa state leggendo? ma lascia perdere dacci un taglio bevi che meglio l'uomo si avvicinò e strappò il giornale di mano al lettore con gli occhiali quello sbiancò e guardò sbalordito gli altri intellettuali quelli guardarono lui voi vi prendete troppe libertà rispettabile signore scoppiò quello non solo prendete la sala di lettura per una bettola ma vi permettete di strappare di mano i giornali non sono mica un ragazzino io sono il direttore di banca Zestyakov bene in fischio se tu sei Zestyakov ecco cosa ci faccio con il tuo giornale e il piantagrane fece a pezzi il nuovo evremia tutto successo in modo inaspettato audace e terribilmente stupido signori ma cos'è questo porbottò Zestyakov allibito per lo stupore e la rabbia tutto ciò è strano è come inconcepibile si è arrabbiato prese a ridere la maschera e però eppure è venuta la tremarella alle ginocchia ecco cosa rispettabili signori gli scherzi da una parte le ginocchia dall'altra ecco cosa al momento che io desidero rimanere qui da sola solo con le mademoiselle vi prego di non contraddirvi e di andarvene prego signori signor Belebushin fuori perché fai tutte quelle smorfie col tuo grugno ho detto di andartene e dunque vattene non mi piacciono i malcontenti avanti diamoci una mossa ma cos'è questo? il tesoriere del tribunale degli orfani si strinse nelle spalle e diventò tutto rosso non capisco un impudente qualunque rompe qui è tutto a tratto cose incredibili cos'è questa parola impudente? si arrabbiò la maschera e picchiò un pugno sul vassoio coi bicchieri con chi credi di parlare? pensi che siccome indosso una maschera ti puoi permettere di dirmi tutto quello che vuoi? è un bel peperino che smorfioso vattene se te lo dico tu direttore di banca avanti march uscite tutti quanti che non resti uno solo di questi bottegai avanti adesso poi la vedremo disse Zestyakov i cui occhiali erano tutti sudati per l'agitazione ve la farò vedere fate venire il responsabile dov'è? il direttore di banca fece un salto sbatté la porta e corse a cercare il responsabile il responsabile un tale di pelo rosso con un nastrino azzurro sul bavero apparve dopo un minuto e si rivolse alla maschera vi prego di uscire qui non si può bere favorite al buffet e tu da dove te ne scappi fuori chiesce la maschera forse che ti ho chiamato vi prego di non darmi del tu e di favorire verso l'uscita senti caro il mio uomo vedi di non impuntarti non son tipo da farsi intimolire ti do un minuto di tempo proprio perché sei il responsabile porta fuori questi artisti sotto braccio alle dame qui non ci piace se c'è qualcuno di estraneo a me non importa un fico secco io posso farlo anche in strada ma loro sono dame è evidente che questo prepotente non capisce che non siamo in una stalla strillo testiakov chiamate subito Efstrat Spiridonich Efstrat Spiridonich la voce corse per il club dov'è Efstrat Spiridonich Efstrat Spiridonich non tardò ad arrivare ma non poteva farci niente neanche lui vi prego di andarvene di qui disse con voce rauca leggendo sotto l'accella una cartella voluminosa e muovendo i baffi impomatati ah tu sì che mi hai fatto paura mi hai fatto paura scoppiò a ridere la maschera ti fanno di quelle paure che Dio mi fulmini ha messo in azione i baffi come un gatto si è buttato una rivoltella sulla pancia e non ha paura neanche del diavolo dal mio punto di vista se devo giudicare Efstrat io ti posso comprare e ricomprare due volte vi prego di non giudicare e di favorire invece verso l'uscita altrimenti ordinerò di portarvi fuori scoppiò Efstrat Spiridonich sì certo signore devo dedurre dunque che voi non ve ne andrete di qui fino a domattina e vabbè mettetevi a sedere se lo desiderate a me non importa solo non vi offenderete se in vostra presenza io e la mademoiselle daremo scandalo la colpa è vostra se non ve ne andate e tu servo vieni qui di corsa porta sto liquore tu invece Efstrat smetti di fare il pianto greco eri qua dunque scegliti una mademoiselle e dacci sotto invece di starli a inveire diamoci dentro più che sotto le feste e tu chiacchierone perché straluni quegli occhietti non ho detto la cosa giusta come? cosa avete detto? signori avete sentito? nella sala di lettura si levò un gran frastuono Efstrat spiridonice rosso come un gambero pestando i piedi e gesticolando con le mani cominciò a dimostrare che lui questo non lo avrebbe tollerato che non solo avevano disturbato le quiete e il silenzio comuni ma avevano anche osato offenderlo nel compimento dei suoi doveri Vestiakov gli faceva eco ma la sua voce era coperta dal penetrante tenore di Belebucin tutti gli intellettuali gridavano ma le loro voci erano sopraffatte dalla grave roboante risata della maschera ormai senza freni a causa del trambusto generale le danze si interruppero e gli uomini si riversarono nella sala di lettura toglietevi la maschera e favorite dire qual è il vostro cognome disse Rauco Evstrad Spiridonich in risposta a questo la maschera con due enormi pugni gli fece le fica Evstrad Spiridonich sputò e si sedette a ridigere un protocollo scrivi scrivi disse la maschera battendogli col dito sotto la penna scrivi il mio cognome è Gvodikov Peter Parfeniov Gvodikov mercante figlio di mercante di seconda classe e mo come farò povero come sono mi metteranno dentro vero? ma povera la mia testolina perché rovinare un povero orfanello come me? non posso abbiate pietà voi razza di diavoli e allora è pronto il protocollo? scritto tutto? beh adesso guardate uno due tre il piantagrane si alzò si drizzò in tutta la sua altezza e si tolse la maschera rivelato il volto ubriaco e constatato l'effetto prodotto si lasciò cadere in una poltrona e cominciò a ridere rumorosamente l'effetto fu veramente straordinario tutti gli intellettuali si guardarono l'un l'altro impallidirono e si misero a grattarsi la nuca evstad spiridonici si grattò la nuca così forte che si sentì fin dal corridoio nell'attaccabriga riconobbero un ricco industriale il cittadino onorario ereditario Piatirilov noto per gli scandali la beneficenza e come riportato più volte sul gazzettino locale per il suo amore per la diffusione della cultura e allora ve ne andate o no? domandò Piatirilov dopo un minuto di silenzio gli intellettuali senza dire una sola parola in perfetto silenzio uscirono in punta di piedi dalla sala di lettura e Piatirilov chiuse la porta dietro di loro ma tu lo sapevi muso di cane che quello era Piatirilov gracchiò evstad spiridonice dopo un minuto cercando di fare sottovoce e scuotendo per una spalla il cameriere che aveva portato il vino nella sala perché non l'hai detto? avevo ordinato di non dire nulla aveva ordinato di non dire nulla quando ti ha promesso dentro maledizione allora saprai cosa vuol dire aveva ordinato di non dire nulla fuori di qui e voi cari miei signori disse rivolgendosi agli intellettuali avete tirato su un bel 48 non potevate mica uscire dalla sala di lettura per dieci minuti adesso voglio vedervi a rimediare al pasticcio per colpa vostra solo io mi prenderò una sgridata senza nessuna ragione questo proprio non mi va giù quanto è vero il dio intellettuali si misero ad andare su e giù per il club tristi completamente rintronati a grattarsi la nuca disbigliando e aspettando il peggio le loro moglie e figlie saputo che piatirilov si era offeso e arrabbiato smisero di parlare e se ne tornarono ognuna a casa propria le danze si interruppero alle due piatirilov uscì dalla sala di lettura era ubriaco come cinque ciabattini messi insieme entrato nella sala si sedette vicino all'orchestra e si mise a sonnecchiare al ritmo della musica poi inclinò tristemente la testa sul fianco e prese russare smettete di suonare fece lo segno ai musicisti shh jagor nilic sta dormendo non volete che vi si accompagni a casa jagor nilic domandò al milionario bele bussin accostandogli si all'orecchio non volete che vi si accompagni a casa oppure che diciamo alla carrozza di venire eh cosa tu cosa vuoi accompagnarvi a casa signore è ora della nanna vi abbiamo irritato fatto arrabbiare jagor nilic ma lo sa dio io non vi avevo riconosciuto signor mio che io non possa più vedere mio padre e mia madre se io mi fossi alzardato e che disgrazia era poi che voi voleste passare un po' di tempo in un piacevole appuntamento nella sala di lettura per questo certo il club non sarebbe andato a fuoco jagor nilic permettetemi in segreto all'orecchio che resti fra noi come al proprio padre zestyakov lo sapeva che eravate voi lui lo sapeva signor sì ma lui apposta voleva ferire voi e far fare una brutta figura a noi a casa voglio andare a casa accompagnatemi a casa ah fece belibushin per la contentezza e cominciò a tirar su piatirilov gli altri intellettuali balzarono verso di lui e sorridendo di piacere sollevarono sua signoria e la portarono con cautela alla carrozza certo che gabbaro un'intera compagnia in questo modo può farlo solo un vero artista un talento probò a Zestyakov accomodando il milionario io sono letteralmente stupito Iagornilic non finisco più di riderne noi ci agitiamo tanto ci diamo da fare ci credete neanche a teatro ho mai riso tanto comicità non finire tutta la vita vi ricorderò di questa indimenticabile serata accompagnato a piatirilov gli intellettuali si fermarono un po' a chiacchierare verso la fine mi ha stretto la mano proferì Zestyakov sorridendo significa che non è arrabbiato lo voglio addio sospirò Evstrad spiridonice come uomo è un vero mascalzone ma fa tanta beneficenza non si può che cos'è che cos'è si può esprimare che cos'è che cos'è Grazie a tutti.